In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo di questo fine settimana, vogliamo aggiornare i telespettatori di Cilento Channel sulla situazione attuale del tempo? L'assenza sul bacino del Mediterraneo di una solida figura di alta pressione determina condizioni di tempo variabile, spesso instabile, con frequenti precipitazioni. Una situazione che si protrae ormai dall'inizio di questo mese, un mese di maggio che continua inoltre a far registrare valori di temperatura al di sotto della media del periodo, anche se con qualche eccezione. Nelle prossime ore è atteso l'ennesimo affondo di una saccatura di origine nord-europea in direzione del Mediterraneo occidentale, dove all'altezza delle Baleari andrà a strutturarsi un vortice depressionario, depressione che condizionerà il tempo sulla nostra regione per alcuni giorni a partire dalla giornata di domenica. E per le giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio come sarà il tempo? Per domani, sabato 25 maggio, avremo cielo poco nuvoloso, con nuvolosità alta e sottile in aumento dal pomeriggio, ad iniziare dalle aree costiere. Nel corso della serata la nuvolosità andrà intensificandosi, con possibilità di precipitazioni in estensione a quasi tutto il territorio regionale nel corso della notte. Temperature in temporaneo aumento, grazie alla disposizione del vento dai quadranti sudorientali. mare da poco mosso a mosso, domenica 26, condizioni di cielo molto nuvoloso, con frequenti precipitazioni che, specie dal pomeriggio, potrebbero assumere carattere temporalesco. Schiarite temporanee nel corso della giornata, in particolare sui settori settentrionali della regione, temperature in diminuzione, venti moderati meridionali e mare da mosso a molto mosso. E sulla tendenza della prossima settimana, che cosa puoi dirci? Tempo molto instabile anche nei primi giorni della prossima settimana, specie nella giornata di lunedì 27, quando sono attese altre precipitazioni anche consistenti. Le temperature si manterranno su valori lievemente al di sotto della media stagionale. Una situazione destinata a persistere almeno fino a giovedì 30, per cui possiamo affermare, con un buon grado di affidabilità, che per l'intero mese di maggio 2019 non abbiamo avuto nessuna ondata di caldo africana. Ma, per ulteriori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it